Buonasera a tutti e dal vostro grande Capitano Napoli e benvenuto in questo nuovo video, ennesima serata mare per il calcio italiano in Champions League. Come risultato è appena finita Barcellona e Inter, molto attesissima, valevola per la seconda giornata di Champions League e legione dell'Inter ed è terminata con la vittoria rimonta del Barcellona per 2-1 con l'Inter, con vantaggio dell'Inter il secondo minuto del primo tempo e con Lautaro Martinez pareggia cinquantottesimo di Suarez, raddoppio di Suarez all'ottanta quattresimo. Con questa vittoria andiamo a vedere subito il gerone dell'Inter, Barcellona e Borussia Dortmund a 4, Inter e Slavia Praga a 1. L'Inter ha partito veramente bene, grandissimo primo tempo dell'Inter che va in vantaggio però su un grave errore della difesa, un rimpallo favorisce il Torre che si difende dal ritorno di Piquet con diagonale, Barcellona. C'erano altre buone occasioni per l'Inter perché è un primo tempo irriconoscibile dell'Inter, partita difficile per Messi, funziona la trappola di Conte che sta raddoppiando e triplicando le marcature sul fenomeno argentino. Il grande spesso bilanciato funziona la ripartenza di Sanchez e compagni. Un miracolo di Ter Steg su Toro San Martinez salva la squadra di Valverde. Inter meritatamente in vantaggio gli Ocamp Nou. La squadra di Antonio Conte trova la rete con una grande discida di Otaro Martinez in apertura. Barcellona che presse ma le occasioni sono solo per i nerazzoli. Secondo tempo il Barcellona fa un cambio decisivo, fa entrare Vidal per Busquet e la squadra cambia. Al cinquantottesimo appunto su un bellissimo assist di Vidal dentro l'area, la prende al volo su Ars, grandissimo talento del calcio mondiale, fa veramente un gol meraviglioso in girata, bellissimo, semplicemente imparabile per il fortissimo, fenomenale portiere di l'Inter andando. C'ha qualche contropieghe dell'Inter che anche l'Inter come il Barcellona potrebbero sfruttare, ma l'Inter mi è piaciuta di meno nel secondo tempo, anche se è più il Barcellona che è venuto fuori, è l'84, bellissimo, 1-2 tra Messi e Suarez, da una bellissima palla dentro l'area, Messi per Suarez, Suarez la controlla dentro l'area con un tocco sublime e meraviglioso, la metterà soterra sul palo più lungo 2-1, nulla serve. I tentativi finali dell'Inter finisce così, il Barcellona batte 2-1-1, l'Inter, grandissimo sportivamente, parlando primo tempo dell'FC internazionale in Milano, molto meglio il Barcellona nel secondo tempo, però se devo essere sincero, secondo me sconfitta, immeritata dell'Inter. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al canale. Serata mare come risultato per il calcio italiano, sempre Forza Napoli, una buonanotte alla vostra capitana Napoli, ciao aia!